buongiorno siamo con francesco cazzato cazzato nel come 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 le luci bene è il caso del confratello anche perché comunque una parte del negozio dedicato ai confratelli e da dove nasce questa idea di realizzare un negozio per approvvigionarsi o abbeverarsi anche nodi del negozio del negozio per valorizzare e dare prodotto culturale di chi ha studiato le tradizioni no è un racconto dal basso visto proprio dal popolo perché sono funzioni religiose e popolari per cui il mio racconto nasce sempre agli occhi addirittura abbiamo questo mezzo con cui la